Vedi, vedi che questo gioco qua è sbagliato Vedi che questo gioco è sbagliato Che ci sono i pre-made di là E noi non abbiamo pre-made Perché? Perché Riot vuole che io perda Non è possibile ragazzi che io perda Perché Riot mi dà i pre-made Guardalo questo 10 giocate e 8 win giocano insieme E Riot me li mette Esattamente contro Cioè raga vuol dire letteralmente che in questo game è perso Senza che io debba giocare È aritmetica Due persone con la comunicazione contro un team senza Non possono perdere Non esiste Perché la forza della comunicazione supera tutte le altre forze Questo pre-made con questo Al di là che sia un silver Che ovviamente Silver è una parola Aveva 3-9, 12-5, 9-2 12-2 anche questo qua è interessante Questo pure c'è un bel rollino di marcia 5-4, 7-2, 3-5 100% win rate con Jarvan Cioè Inter game Account bello fresco Comprato oggi 3-6 7-8-9-10 game Appena finita il placement Tutti i due silver 3 Cioè Non due amici raga Che oggi hanno detto Oggi compriamo gli account E saliamo Anche la nostra Evelyn effettivamente è gross Però Ugualmente Ugualmente raga Non è una cosa che puoi fare Non è giusto Nei confronti di chi vuole giocare solo A questo punto O mettile solo O mettile duo Questo start qua O mettile solo O mettile duo Cioè non ho neanche preso nessun dato su Rise È un Rise Armor Aspettava tutt'altro Tutto altro game Beh bro Bella mossa Prendo la V Per fare increase moon speed Andalo a prendere Ora mi fa la fisarmonica La faccio fare su tutt'ora Bello Ognuno non ha capito Jarvan e mid Troppo l'overdrive Che lui non sfrutta Facciamo bene a non ignitare Anche perché insomma Faremo un favore in realtà Jarvan e topside Lo vado a fare 1v1 Stavo pushendo come la merda Ragazzi Guarda è qua Parte mia Anche Rise è preoccupato Sul fatto che io manchi Perché non sto più giocando Di lui Ma sul jungle Cazzo è Non c'è motivo È botte È qua Però questo movimento di Rise Non mi piace Quel doppio passo di Rise Non mi è piaciuto Go back Dovevo pushare Fa di cosa ci fa Gio santo È da flashato Ma è gigawort Raga È gigawort Ovviamente È subito di relay Per contrastarlo È una wave messa perfetta Per il teleport Cioè Nel cinema Gioca DTP Ha fatto third load È senza flash Il flash Per me va benissimo Così Mentre va a mettere un nome qua Per proteggersi Dai È un gank di Evelynn Con quelle risorse che abbiamo Fino a questo momento È un game difficilissimo Sulla carta ragazzi Anche perché Jarvan Purtroppo fa un po' il cane di tutti Ovviamente bot Succede un po' di tutto E ce ne sbattiamo il cazzo Non conosciamo il champion Lo lo andiamo down Andiamo a risettare la wave E torniamo subito in corsia Di nuovo Qua è guardato Lui è al 6 Com'è al 6 Lui è al 6 Ah vabbè Sono andato a farmi un spasso Prima Qua è guardato Imbarazzante In caso lui è Double range Fa ventura a servirgli Quella roba lì per 170 gold No one shot Però lui non ha mana Dunque lui dovrebbe attendere Circa il fatto che Le cali lì A 500 HP Non lo posso fare Per lui Crede che accetto 98 di gold Di mana Non ha mana Le puniamo Qua i minion Qua i minion mi van bene così A me Qua l'haize Lasciare Una wave Piuttosto desertica Anzi Jarvan dov'è Bozzara Gioco Il fatto che Jarvan sia bot Vincente Come strategia Ulti da parte Di Jarvan Missa Zed Potrebbe essere topside Meglio ricallare Leona Leona Sembra che abbia fatto Una gran giocata Questo è il carretto Dunque Sarà anche un po' più complicato Per lui Fingermela Quanto manca? 57 Via le pozze Ora con il relay Cancello la runa WP team Facciamo sempre Gli elogio al team Anche se non abbiamo visto nulla Vedendo i risultati Sembra che Numericamente Siamo andati Forte Ovviamente Raga Vi ho detto Che non ha Tutto quel potenziale Per far grandi cose Ah una bella wave Lui potrebbe Divare Metto un Anti dive Lume Qua Anche perché Jarvan Non si è mai presentata La mia corte ancora So di vantaggio Che non ha Ulti L'ulti di Catecherito Ma è 120 180 Voglio lui però Non essere interessato Poi in realtà Il teso Gli lo butto addosso Con la ulti Noi ci andiamo a 90 Se no che questo ho capito Che sa giocare circa Eh vabbè Che povero Ovvio che era top Sono ultimi Vabbè botta ha vinto Non devo osare Troppo Hanno 1,2,3 AP 2 AD Privi di engage Perché Jarvan Insomma Un engage Forte Ma anche sterile Tutto fino a se stesso Dunque Riprenderà Una plate Gliela concediamo Di mal grado Perdo il carretto Perdo un sacco di cose Gank Cercate Anzi Addirittura Vi dirò A un certo punto Pensavo di farmi Entrambi Vedendo come era Messo il trade Ma noi Dobbiamo insieme Sulla luna E ti permette Di debitarti Se avessero 10 gold No no Ma il draga Il debito Non frega Un cazzo Tu hai gold in più Punto Riot ti dice Tu hai 190 gold in più Usali Non è che un debito Raga Riot mi da 190 gold in più Non ho tasse Non è raga La banca Adesso Noi andiamo a leggere Io posso utilizzarlo Il gold Ah no In realtà C'ho Landing fee 50 gold Cazzo L'ho scoperta Per me Sa che sono qua Però in realtà Non miro lui Lo vuole essere Tradato Con jarvan bot Non me l'ha preso lui Vaffanculo Se è Frustrazione Ah Invede Guarda Questa cazzapanca Di champion Dovrebbe Ard'ingaggiare Non ho Easy kill Per lui Deve usarne No Però il 9 Va bene così Aladdino di mer Spendere fino a 300 gold in più Puoi scammare Per oltre 100 Ma bro Ti dico Delle volte Il debito Va benissimo Perché mi permette Di arrivare in l'enco Con oggetti più forti Cioè Il debito Io lo prendo Praticamente sempre Dai gold in più Questo tipo a top Vediamo cosa succede Vado direttamente là Eh Andiamo Gameplay Caga il cazzo Ha ragione Gameplay Che non posso Spostarmi dalla top A livello teorico A livello pratico Però lo faccio Perché non me ne sbatto Un cazzo Eh beh si è fatta vedere Questo al 10 Siamo sotto Di una kill Tipo Per l'altra Pari Per usare Usare No Perché quale è raga Perde tempo Il moment speed Ho già Setup pronto Per il gromp L'interazione Raga Eh Di merda Veramente Stupida Mi riduco Senza pianta Noi raga Andiamo a disinteressare Ma come cazzo Fa essere guardato Questo Mi interessa Non forzare Damelo qua Vai Figa Attaccati al cazzo Grazie a tutti Uso bot Però deve restarmi Viva la bot Ulti in nove Ulti raga Sul farm Cioè Ditemi se posso essere Più bastardo Di buttare Una ulti sul farm Ma questo Dammi un altro Cazzo Bellare Duden Oh Holy shit Che danni Bec 800 danni Bel champion Armi Oggetto Game plank Sonno Di qua Di qua Di qua Ecco Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti ho guardato ho guardato ma holdali 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 ah vei vista raga stamila è full build dai dammi l'ex per il 12 guardate quella ulti la quella ulti la era meravigliosa quella ulti era a lezione di ulti con con rumble raga a lezione di ulti con rumble parcheggiato lì a lezione di ulti con rumble io questo lo muto raga disgustoso come persona a lezione di ulti con rumble una ulti che ti permette di andare a chiudere due aree e loro non possono utilizzare la backline che è xerath è una ulti magistrale una ulti di una complessità tale che probabilmente solo un bel cosplayer lo potrebbe utilizzare devo andare vabbè una sagrade diventa rannato down vuoi anche me capito che se mi giro hai la mal mortis figlio di una gran troia hai la mal mortis non l'avevo vista ecco perché mi ha rannato down perché hai la mal mortis 14-3 ma hai premuto un tasto pur chase basta basta ma leva questa scritta qua non serve a niente persone frustrate il drago c'è il drago ragazzi uno lì l'abbiamo rubato non se ne farà rubare un altro oh mio dio danglar che tilta mal doppia mal mortis oh madonna però mi restano dei danni molto interessanti sul resto del team noi non stiamo più farmando non stiamo più scalando io vado a far scala faccio il 16 via la combo è molto semplice jarvan entra e twitch melta per questo jarvan funziona io vado a far scala 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 Ancora la ulti eh Leona Ma usa la ulti no Ecco Sei immortale No raga la Malmortus No mi sta ossidendo le tempie la Malmortus Questo qua va di Ground Shatter qui Oh madonna 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 Vedi che non è Malmortus lui Prende le botte Ci può ingaggiare a far tutti Fa tripla raga Non ha neanche mano a Evelyn Grazie a tutti Complesso Cazzi tuoi Tintato quello che ci carriava C'era da carriare tintato E rimuovere il nome no? Immaginavo Un drake Nice Nice Il drake Fuora lì Grazie a tutti Grazie a tutti Non va giù raga Non ci va giù Non ci va giù Jarvan Negli AD Negli AP Per quello vi ho detto che serve Samira Non le fa nulla Non le fa nulla Samira raga Twitch lo smeriglia Ma non gli fa nulla Jarvan Dai quanto manca Dai Dammeli Darvan Ma il problema raga È Ma è morto Sono cancellato Da questo game Anche Evelyn è cancellata Per un item Siamo cancellati in due Purtroppo Samira Se cose non le sa Dunque Ma il problema principale raga Oltre a questo Cioè Non lo prendo più Ci sono tanti problemi ragazzi In questo game Cioè Non riusciamo Con la boystaff E Rabadon Non gli ha fatto nulla Perché gliel'ha mitigati tutti La Malmortius Cioè Non può un oggetto Permetterti Di 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 vincere Così agilmente Adesso non mi dice Vabbè Non è di danno No Però non ti dà 55 Di AD Ti dà 50 di Magic Race E non uscite Di 739 Tu No che già Tank Cioè 739 di shield Ma stiamo scherzando Cioè vuol dire Che io neanche col flash Mi servo da un Jarvan Così Dove in questo Era un permadente Infatti me ne vado A piedi Tanto Sroba La nostra main condition Diventa Samira Che non ne fa danni Potrebbe essere Gameplay Ma non gli fa danni Non gli facciamo danni Ragazzi Su Jarvan E Non possiamo anche essere In 5 a pocusarlo Purtroppo non gli facciamo danni È il 17 tra l'altro Ha tutta l'intenzione Di ingaggiare Un po' tutti Ma Non ci sono arrivato Di autoattacchi All'Aki Guardate Jarvan Ha perso Nell'inizio fight 1000 HP Ha beccato Si è beccato La mia ulti Le ulti di gameplay Che il barile di gameplay Che tutto il danno Di Samira Cioè Raga il problema Principale È Questo Cazzo Di oggetto Non è possibile Che c'è un cazzo Di tank Che tank A merda Ha dei danni Assurdi Raga Fa 346 Di ad Ha delle resenze Così alte E con un oggetto Counter Due assassini Cioè Non è Non è possibile Non è Non ha senso È grave Si Questo vuole che Prendo gli andri Prendo gli andri Contento Prendo gli andri Adesso Non cambierà Nulla Ma invece È cambiato tutto Raga Beh Minchia raga Lo è suscitato Lo è suscitato Cosa cazzo è Che blocca Tutti i danni Possibili Immaginabili Io Santo Santo E morirà No Stava portando Bialeona Dile a voi Che me la prendo A fare Vedete Io adesso Ho questo problema Qua Io mi metto qua Guarderò Due api Basta Shadow flame Shadow flame Shadow flame È l'unico Shadow flame Quanto Quanto adulti Perchè come me la Io raga Non dovrei mai Essere qua In teoria Dovrebbero Venirmi A prendere Che cazzo Sto facendo Lì GP agitato Omentiamo un po' Del capo Di l'anima Insomma